Grazie a tutti. Voglio presentare alcune opere della chiarissima professoressa Teodorini Cavarisco, mamma del chiarissimo professore e cavaliere ufficiale Alessio Cavarisco. Mi dico subito che si tratta di un video divulgativo, non sono uno specialista di arte. Sono un sacerdote gesuita con una preparazione in materie letterarie e un dottorato in scienze sociali, quindi un fruitore diciamo medio. Però ho seguito un importante corso con il compianto professore Gabriele Mandel e quindi insomma qualcosa in materia di arte mi è rimasta. Furono lezioni veramente memorabili, quindi cercherò di applicare quello che ricordo di queste lezioni alle opere di L50, come si fa a chiamare lei nell'ambiente. E poi spiegherò anche perché questo è L50. Quando ci si trova davanti è un'opera piuttosto difficile e si parte da quello che si conosce, così mi hanno insegnato i gesuiti. Quindi io partirei da un saggio di Monsignor Franco Giulio Bambilla che parla appunto dell'opera di L50 e dice, è intitolato Nostalgia dell'origine, dice Monsignor Bambilla, dice in pratica Questo mi sembra il fremito che attraversa l'opera di Linda Varisco, la nostalgia delle origini, dell'origine. Quando si attraversa un periodo di crisi, di difficoltà e quant'altro, in genere si cerca di ritornare all'esperienza primigenia, primaria. Ho visto per esempio coppie fidanzate in crisi, le quali dicevano, ma ricominciamo, torniamo all'inizio del nostro fidanzamento, quando eravamo tutti entusiasti, quando ci sembrava tutto bello, tutto puro, tutto santo, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente l'intento di Tedolino Varisco è questo, un riproporre una purezza originaria che poi è andata persa, che non ha del tempo, no? Tutto era buono, bello e santo, come Dio lo ha creato, poi purtroppo nell'andare qualcosa si è degradato. Poi aggiunge Monsignor Bambilla, più chiaramente si dovrebbe dire Nostalgia della verità come rivelazione. Tutta l'arte è una ricerca della verità, lo sappiamo, no? Ci sono verità presenti nel mondo ma che non sono espressamente visibili. Quindi l'artista con la sua sensibilità, con il suo essere artista, cerca di far emergere verità che altrimenti non sarebbero visibili. Questo è un po' forse il senso di tutta l'arte. E poi, se pensiamo bene, è esattamente quello che accade nella rivelazione. Dio si rivela. Non è che comprendiamo Dio, però comprendiamo che c'è un mistero più grande. Ecco, forse questo è un po' anche il lavoro dell'artista. La verità in sé è difficilmente accessibile, però sappiamo che c'è una verità ulteriore, una verità più grande di quella che comunemente riusciamo a percepire con i nostri poveri sensi, che sono fondamentalmente limitati. Mi ho in mente l'opera di un grande poeta gallese, Dylan Thomas. Questo Dylan Thomas diceva, ogni volta che una buona poesia viene scritta, il mondo non è più lo stesso. Io penso che si possa estendere questo concetto a tutta l'arte figurativa, musicale, eccetera. Quindi quando un'opera d'arte, una buona opera d'arte è stata prodotta da un essere umano, il mondo non è più lo stesso. È cambiato. Ha delle percezioni diverse, ovviamente per chi vuole ascoltare. L'arte non è per tutti, si può vivere tranquillamente anche senza arte, per carità. Ma forse neanche tanto, sapete, perché il professor Mandel diceva, sì, una popolazione può anche rinunciare a Dio, ma non all'arte. Ci sono stati momenti in cui i popoli si sono dichiarati atei, però non hanno rinunciato all'arte. E' un pensiero che ancora oggi mi interpella dopo quasi 40 anni, che sentì le lezioni del professor Mandel. E poi continuiamo il suo Blambilla. La verità si dà sempre nei segni, nei volti, nei gesti, negli avvenimenti, nella memoria e nel presente. Il luogo di rivelazione della verità è la vita. Non possiamo cogliere verità che non siano nella vita. Ci sono verità transcendentali e verità che sono reali, quindi noi cogliamo, cerchiamo di cogliere la verità nel reale, nella vita di tutti i giorni, nei gesti quotidiani, negli errori, nelle cose buone e belle che facciamo. Un po' questo è il campo di indagine dell'artista, la vita reale. Ecco, un artista che schiva la vita reale, ma non so che servizio possa rendere al mondo. Per carità, ci sono stati poi artisti che, per loro scelta, hanno detto, no, io con la realtà ho nulla a che fare, però, non so fino a che punto sia utile un'arte di questo genere, è un po' narcisista, narcisistica, insomma. Invece l'artista deve essere completamente, deve aderire in modo completo alla realtà, altrimenti di che parla? E poi qui Mons. Brambilla va ancora più a fondo, pensate, sono venti righe, ma sono di una densità straordinaria. Dice, la verità ci appare a un tempo maschera e invocazione. Maschera. La maschera cambia il volto di una persona e non nasconde anche però, quindi la verità a volte nasconde certi fatti e cambia le apparenze. Quindi ecco perché maschera. Ed è invocazione, invocazione perché Cristo è via verità e vita, quindi ogni volta che si cerca la verità, si invoca Cristo, che in fondo è un modo di pregare. Ogni qualvolta cerchiamo la verità, cerchiamo il voto di Cristo. Io sono via verità e vita, c'è poco da fare. Per chi è credente, ovvio, per chi non crede è un altro discorso. Però per noi che crediamo e per L50, che comunque è una grande credente, e poi lo vedremo, è esattamente questo, è un'invocazione, una preghiera. E dice ancora il Monsignor Brambilla, è frammento e allusione del tutto. C'è il tutto nel frammento e il frammento nel tutto. L'immensità di Dio, che è incontenibile, colui che i ciei non possono contenere, si fa contenere in un frammento di pane, nella Santissima Eucaristia. Veramente è un concetto da vertigine. Bene, questo è. E poi la verità è sempre presente, perché tutti quanti abbiamo la possibilità, la capacità, se vogliamo, di percepire un'immagine di verità. Tutti quanti, la verità è disponibile. Nel mondo classico la verità era nuda, perché appunto si disvelava, era accessibile a tutti quanti. Si disvela, si toglie i veli. Ecco, è presente ed è ammiccante a volte nelle sue forme cangianti. Ammiccante. Ci sono sfumature di verità. C'è il vero e il falso e poi altre sfumature tra vero e falso. E quindi tocca a noi accogliere, tocca a noi cogliere queste sfumature di verità, è più vero, meno vero, in certe condizioni è vero, in altre condizioni no. Insomma, è uno sforzo, è una ricerca impegnativa. E come, chi si mette a cercare la verità, altro che filosofia, non serve studiare, cioè, o meglio, studiare la storia di filosofia serve sempre, ovviamente, perché la storia di pensiero umano. Però il filosofo non studia la filosofia, ma fa la filosofia. Questo forse è un altro grande insegnamento del maestro Mandel, quindi non studiare, o meglio, studiare per la propria cultura la storia della filosofia, i filosofi, i pensieri umani, eccetera. Però poi alla fine bisogna fare filosofia, altrimenti è come reggere una bellissima carta geografica, però non viaggiare mai. Io ho letto una bella guida Michelin su un certo paese, però non l'ho mai visitato. Questo è un po' il senso della indagine, della verità, della filosofia. E l'arte è uno strumento per indagare la verità, per far emergere aspetti, elementi, volti della verità che altrimenti noi non riusciremo a cogliere. Ecco, questo è un po' il servizio, chiamiamolo così, che l'arte fa all'essere umano. E poi ancora questa verità non è mai esaurientemente afferrabile. E' pericoloso dire io c'ho la verità in tasca. C'è chi l'ha fatto nella storia umana, però non ha fatto una buona fine. Io c'ho la verità, io so tutto, io l'ha. E' rischioso, è difficile, è pericoloso. Diciamo che possiamo cogliere un aspetto di essa a mano a mano a chi si presenta a noi. Io ho un aspetto, penso di aver colto un aspetto della verità, te lo presento. E però questa presentazione, questa proposta poi è soggetta verifica, come le idee nel mondo filosofico antico. Il filosofo discuteva, non scriveva, quindi diceva un'idea e gli altri confutavano oppure approvavano quell'idea. Questo è un po' il metodo filosofico dell'indagine sulla verità. E adesso veniamo ad un accenno più specifico sull'opera di L50. Dice Monsignor Brambilla, mentre la verità si disvela, quindi sembra togliere i veli, sembra restare nuda, e annunciarsi radiosa e illuminante negli sprazi di luce e di colore, quindi l'utilizzo di luci, colori, eccetera, sembrano dare un'impressione di svelare la verità, quindi qualcosa che colpisce, che affascina, che soddisfa, in un certo senso, i sensi, e dice, poi in realtà, contemporaneamente, in questa verità si rivela, cioè riprende il velo, da una parte lo toglie, ma dall'altra se lo rimette. Dove? Nel contrasto dei colori, per esempio. Nel tormento delle linee. Una linea tormentata esprime un tormento interiore. Sant'Omaso d'Aquino, vediamo le opere e capiamo l'intenzione di chi le fa. No, nelle creature scorgiamo Dio, nelle azioni dell'uomo scorgiamo l'essere dell'uomo. Quindi linea tormentata vuol dire un tormento interiore che si esprime, c'è poco da fare. E quindi, tormento delle linee e contrasto dei colori. Il contrasto è contrapporre qualcosa a qualcos'altro. Due colori contrastanti significano che c'è un contrasto interiore dell'artista. E lo esprime in questo modo simbolico, iconico. Poi tocca vedere che tipo di colore sono, eccetera, eccetera. Però è un po' questo, ecco. Questo è il punto di partenza che mi piace molto, peraltro. Devo dire che ho apprezzato, ho gradito questo spunto di Monsignor Brambilla. Quindi a questa ambivalenza della verità, dice, continua Monsignor Brambilla, che non si dà mai nella forma di un pacifico possesso. Abbiamo detto prima, la verità non ce l'ho in tasca, ma va ricercata. E quando si pensa di averla trovata, la si continua a ricercare. Quindi a questa ambivalenza non si dà un pacifico possesso, ma una specie di custodia amorosa e sofferta. Più che possedere la verità, cerco di custodirla. Ecco, questo è un po' il senso delle opere di Teodorina che possiamo in qualche modo apprezzare. Ripeto, un po' altre volte, l'opera d'arte va fruita nel suo ambiente, in un museo con luci e in ambientazione adatta. Quindi guardare un'opera d'arte su un foglio di carta è diverso che fruirla direttamente dal vivo. Però per adesso, almeno, non si può fare altrimenti. Quindi c'è questa custodia amorevole e sofferta. Piuttosto che un'affermazione apoditica. Io ho trovato la verità, adesso te la faccio sapere, te la dico, te la comunico con il mio lavoro di artista, eccetera, eccetera. No, è una custodia amorosa e sofferta. Qualcuno mi consegna un bene, un oggetto molto prezioso e io, sì, lo ricevo, però se l'ho preoccupato perché l'ho in custodia qualcosa e poi se me lo rubano, se lo perdo e quindi mi dà un certo sofferenza possedere questi oggetti preziosi. Ecco. E poi il mio sovranbilla fa un chiaro riferimento a Sant'Ommaso d'Alquigno, Dr. Angelicus, dice in pratica mentre guardi l'accavalarsi delle linee, lo scontrarsi dei rintocchi, eccetera, eccetera, ti chiedi di che occhio sia un rivelazione, di che ricerca siano quei paesaggi dell'anima e quei prenderi della memoria. Quindi questo è 100% Sant'Ommaso, no? L'opera di qualcuno parla di quel qualcuno, chiaramente. Quindi l'opera di Dio parla di Dio. L'opera di L50, Teodorino Varisco, parla di Teodorino Varisco e così via. E poi continuo dicendo sono espressione personale e familiare, sacrale e disincantata ad un tempo, rimandi all'inconscio di una fanciullezza abitata a tanti volti. Addirittura nell'opera di Teodorino Varisco si hanno tracce della sua fanciullezza, dell'adolescenza, e di un presente attraversato da dolore e speranza. Dolore e speranza. Tutto questo è un'espressione che si ricava, è un'espressione che si ricava dalle opere di Teodor Linda. E questo fa pensare che sia la ricerca della verità in un lungo tragitto. ovviamente la verità non si trova dietro l'angolo, magari bisogna compiere un percorso lungo, faticoso, costellato da errori, cadute, incomprensioni e quant'altro, quindi, però bisogna intraprenderlo. e tutto questo dice, conclude Monsignor Bambilla, è un tirocinio severo. La vita ci istruisce, come se... la vita ci istruisce subito, fin dall'inizio, dice la Bibbia, è bene che il giovane impari fin da subito a portare il peso, il gioco della prova, il gioco della incomprensione, della difficoltà, della vita, perché se noi facciamo crescere i bimbi sotto una campana di vetro, non facciamo il loro bene, bisogna metterli a contatto fin da subito con le difficoltà, con le asprezze della vita, altrimenti da tutti poi si trovano deboli, fragili, indifesi, quindi bene per me portare il gioco fin dalla giovinezza, quindi ringrazio il Signore che fin da giovane, da piccolo sono messo a contatto con le difficoltà della vita, io ricordo mamme per esempio che non volevano che i loro figli vedessero magari i nonni defunti, perché sennò poi si impressionavano Dio la morte, la cosa, il cadavere e poi e no, 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 la morte fa parte della vita, è il naturale complemento della vita, è un passaggio a un'altra vita, quindi è giusto che anche i giovani assistano assistano al fenomeno della morte che di fatto è un cambiamento di stato, la vita non è tolta ma trasformata, quindi fin da subito mi raccomando cercate di spiegare con parole adatte voi genitori, nonni, eccetera che la morte non è una punizione, una condanna tremenda del Signore ma è un cambiamento di stato, quindi giusto che i piccoli facciano contatto, facciano esperienza, abbiano un contatto con questa, con la morte. E poi continuiamo a Sio Brambilla, la verità è utopica, qui si aprono dei mondi, addirittura degli universi inesplorati, nel senso che si fa riferimento a una celebre opere di Tommaso Moro, Thomas More, il quale scrive la sua utopia, un libro in cui si dice chiaramente che la società ideale non esiste, utopia vuol dire nessun luogo, nessun luogo, utopos, non c'è in nessuna parte la verità, la bellezza, la perfezione assoluta, non c'è, e lo scrive, lo dice in un suo romanzo punto utopia, quindi, quindi dice Monsignor Brambilla, la verità è un'utopia, non c'è in nessun luogo, però va ricercata comunque, perché appunto per questo motivo che Cristo dice di sé e via verità e vita, quindi se lo dice dobbiamo crederci, quindi la verità sembra essere più una ricerca, più un afflato, una tensione che un ritrovamento, questo forse è la cosa più bella che si possa dire, la verità è un viaggio, non è un topos, non è un luogo, non è che arrivo alla verità, però la verità è il viaggio stesso, a volte si dice il piacere non sta nell'evento, nella festa, nel incontrare amici, gente, ma sta nell'attesa della festa stessa, del piacere a cui si agogna, e così la verità, la verità è un viaggio, è un itinere, è un muoversi, piuttosto che un luogo, un topos, un punto fisso, un punto fermo in cui si arriva. Tutto questo si dice, si traduce, dice Monsignor Babila, nella ricerca artistica di Teodorino Varisco, quindi possiamo incontrare occhi sbarrati, volti scavati, cromatismi non pacificati, questo cozzare, questo contrasto di colori che esprime esattamente questa tensione, questa ricerca difficili, improba, direi quasi, della verità, e fino, dice, alle linee che gli scompongono il caledoscopio senza fondo della vita, il caledoscopio, che è un simbolo eccezionale, da bimbi tutti quanti più o meno abbiamo visto il caledoscopio, il caledoscopio è una parola greca che vuol dire vedo con l'occhio la bellezza, cal eidoscopio, quindi era un tubo con dei pezzi di vetro dentro e girandoli, ruotando questo tubo in vari modi si componevano figure molto molto belle, il caledoscopio, la vita è un caledoscopio, contiene in sé sicuramente elementi di bellezza, sta a noi però riuscire a comporli, a ricomporli diversamente, diceva il compianto Professor Mandel che Dio crea ma è l'uomo che trasforma, Dio crea ma è l'uomo che trasforma, quindi la materia che Dio crea può essere trasformata, può essere organizzata dall'essere umano in particolare dall'arte, l'arte è lo strumento per eccellenza che trasforma, ricompone, mostra la materia. E come nel caledoscopio quando pensavi aveva trovato una figura bella ruotando questo tubo e poi lo ruotavi ancora e trovavi una figura ancora più bella. e quindi vediamo che la verità, la bellezza, la bellezza è verità e la verità è il volto di Dio secondo la concezione ebraica. la bellezza è il volto di Dio ed è verità caros, cagazzos quindi bello e buono ciò che è bello secondo i Greci è anche buono. Adesso questo concetto si è purtroppo perso nella nostra cultura quindi comunque tornando alle opere di Odolinda c'è sempre un qualche cosa che va oltre quando pensi di trovare la verità già ce n'è un'altra versione un altro aspetto un'altra sfumatura qualcosa che che va oltre no? è il pantarei tutto scorre nulla rimane uguale a se stesso non puoi bagnarti due volte nella stessa acqua come diceva un grande filosofo greco che in genere si identifica con Erachito però pare che Erachito non l'abbia mai detto espressamente tuttavia si deduce dalle sue opere che tutto scorre e quindi quindi nessuna condizione umana è stabile effettiva è permanente detto in altri modi l'unica condizione certa è l'incertezza quindi conclude Mons. Brambilla leggo leggo tessualmente perché forse meritano le sue righe di esser lette dice questa verità è nostra agia dell'origine non di un tempo perduto non di un'età dell'oro sapete che anticamente si parlava di età dell'oro quando tutto era bello buono santo benedetto eccetera poi si è perduto lo status ma dice dell'originario di una patria che si possiede solo sacrificandosi una patria che si conquista sacrificandosi per essa pensate soltanto a quello che è l'unità d'Italia per esempio quello che è costato oggi è costata oggi la democrazia che possiamo vivere in quanto sangue quanti sacrifici quanti morti è costata la nostra patria quindi non si va oltre la storia quindi e dice ancora è la patria della verità in punto di voce perfino di Dio di quel Dio che non è facile possesso che quando lo stringi fra le mani ti sfugge c'è un famoso adagio che dice se capisci Dio vuol dire che non è Dio non riduciamo Dio a una categoria umana lasciamo che Dio sia Dio questo è un po' il senso di tutto quindi se pretendiamo di spiegare i pensieri di Dio quello che Dio fa eccetera non è lui non è Dio ma siamo noi che diamo categorie umane a Dio Dio è Dio è totalmente alto è trascendente a di sopra di tutto quindi è così anche la verità se pensi di possederla boh probabilmente non è la verità devi appunto metterti in cammino e compiere questo percorso di sacrificio questo perché la vita è un'avventura è un viaggio pensate soltanto all'odissea dice chiaramente che la vita è un viaggio quindi quanto è attuale il testo dell'odissea Ulisse che si mette in viaggio che parte che fa che cerca di tornare non riesce a tornare trova mille altre situazioni diverse e quindi la vita è un viaggio sempre con la nostalgia quindi Ulisse sperava sempre di tornare nella sua patria Itaca quindi nostos nostalgia il termine nostalgia è il dolore del ritorno nostos è il ritorno algia è il dolore la nostalgia è il dolore del ritorno viviamo in questa condizione di nostalgia di ritorno all'origine che poi anche Sant'Agostino se volete Signore hai fatto il nostro cuore inquieto fino a che non riposerà in te dice Sant'Agostino tutta la nostra vita inquieta il nostro cuore ci tormenta finché alla fine riposeremo in te questo è il ritorno la nostalgia il dolore del ritorno ecco scusate ho parlato quasi mezz'ora e ancora non siamo arrivati alle opere di Torina del resto sappiamo che l'indagine dell'arte non è né semplice né agevole si tratta di affrontare una vetta erta impervia quindi ci vuole un po' di preparazione prima bisogna mettersi le attrezzature per arrivare in montagna ecco cerchiamo di attrezzarci un po' almeno per compiere questa ascesa questa anabasis la salita al monte della letteratura classica continuiamo il nostro percorso di avvicinamento all'opera di L50 Teodolino Varisco tra parentesi posso spiegare perché L50 io non ce l'ho arrivato sinceramente perché L è il 50 in numeri romani e 50 penso sia l'anno di nascita della signora Varisco quindi me l'ha spiegato lei e 50 più 50 fa 100 ovviamente ma del resto anche possiamo dire 100 è o il tutto o il nulla quindi già nella sua sigla ci dice o tutto o niente o tutto o niente quindi non accontentiamoci delle mezze misure i compromessi queste situazioni grigie che a volte ci tocca vivere o tutto o niente Gesù non scendeva compromessi o era sì o era no lo dice chiaramente il vostro linguaggio sia sì sì no no il resto viene dal maligno quindi tutto questo in una semplice sigla capite che è abbastanza così suggestivo allora continuo con un saggio del chiarissimo professor Pierfranco Bertazzini il quale ci dà altri suggerimenti sull'opera della Barisco leggo in questo saggio brevissimo tra l'altro una paginetta però molto densa pure questa dice il professore la pittura è colore e il colore è istinto spontaneità la pittura è colore e il colore è istinto spontaneità e cita un suo maestro Gino Meloni e appunto questa situazione lui la applica all'opera di Linda Varisco la chiama lui il colore il colore il colore colore se noi vivessimo in un mondo senza luce non riusciremmo a percepire i colori perché i colori sono in base alla rifrazione della luce quindi ogni colore ha un modo di riflettere a luce diverso questo intanto secondariamente la riflessione antropologica ecco sono un sociologo quindi mi diretto anche di antropologia mentre per i maschi per gli uomini i colori sono pochi sono quelli insomma sono il viola il rosso il giallo il verde quelli sono per le donne no il cellulo femminile percepisce i colori in modo diverso molto diverso da quello maschile quindi da dove il maschio vede il viola la femmina dell'uomo vede il malva vede il violetto vede il lavanda vede il lilla il magenta il sangria la metista e via dicendo quindi quindi vedete che un cervello femminile percepisce i colori in modo molto più dettagliato perché perché evidentemente hanno aree cerebrali diverse sono diversità credo che vanno ricondotte proprio a livello fisiologico ecco quindi pittura e colore abbiamo visto che una mente femminile vede il colore in questo modo è il colore istinto è l'istinto è qualcosa di innato qualcosa che sta scritto nel DNA non si può ricondurre tanto la ragione l'istinto della paternità della maternità non sono indagabili razionalmente non c'è non si può fare un'indagine razionale di un istinto quindi quindi colore è istintuale è iscritto nel DNA diciamo così dell'essere umano e appunto abbiamo detto con le differenze tra il femminile e il maschile poi continua il professor Bertazzini parlando delle opere del barisco dice sono oli tempere e qualche carboncino oli tempere e qualche carboncino colori buttati e sparsi a spatola ma anche distesi a mano e ad unghia così che elaborato mi appare quasi come un antico graffito quindi qui fanno una divulgazione tecnica io non sono esperto di tecnica pittorica o altro quindi devo assumere quanto dice il professore le tecniche sono diverse sono quasi buttati sparsi con la spatola o anche con le mani o con le unghie quindi tecniche differenti che evidentemente danno effetti differenti io qui però non posso indagare oltre perché appunto non essendo esperto di tecnica pittorica qui tanto non posso dire però dice il professore e tutto questo lo fa pensare gli fa pensare a un graffito il graffito è la primissima forma d'arte umana e i graffiti rappresentavano l'espressione artistica degli uomini primitivi e sapete cosa rappresentavano i primitivi no? avete visto qualche graffito nelle grotte rappresentavano gli animali cioè il cibo la prima forma d'arte umana è stata il cibo perché questi signori questi antichi progenitori rappresentavano quello che consentiva loro di vivere di campare andavano a caccia di animali e li rappresentavano il cervo l'alce quello che è insomma ecco quindi quindi l'uomo proiettivo sente il bisogno di rappresentare a livello simbolico iconico ciò che lo rende vivo il cibo in questo caso quindi l'arte è un bisogno direi primario nell'essere umano quindi pensate a quanta profondità c'è in tutte queste opere in questa scelta dei colori dice sempre il professor Bettazzini la pittrice si concede scelte striate di irrazionalità emotiva con languori esaltanti e sapori esplositi da fove e ovviamente non essendo esperto di arte ho dovuto documentarmi su quello che significa il fovismo allora prendo da un sito serio ben informato che parla di fovismo dice l'arte dei fovisti fov vuol dire bestia animale selvatico insomma dice la loro arte si basava sulla semplificazione delle forme sull'abolizione della prospettiva e del chiaroscuro sull'uso di colori iracei innaturali sull'uso incisivo del colore puro spesso spremuto direttamente dal tubetto sulla tela e una netta e marcata linea di contorno quindi sembra che questo movimento fovistico abbia letteralmente fatto a pezzi per così dire la pittura tradizionale dice l'importante non era più come l'arte accademica il significato dell'opera ma la forma il colore l'immediatezza quindi non il senso il significato ma la forma il colore e l'immediatezza partendo da suggestioni e stimoli diversi ricercava un nuovo modo espressivo fondato sull'autonomia del quadro il rapporto con la realtà visibile non era più naturalistico l'albero non era più l'albero il tronco non era più il tronco i rami non era più i rami le foglie non era più le foglie in quanto la natura era intesa come repertorio di segni al quale attinge per una loro libera trascrizione abbiamo citato il compianto con le solmande diceva Dio crema e poi l'uomo trasforma esattamente questo quindi Dio crea l'albero però possiamo noi interpretare l'albero in modo libero trascrittivo possiamo vederlo in modo nostro personale poi chi vuole vedere l'albero va in campagna si vede l'albero però l'artista lo vede in un modo totalmente differente e qui stiamo parlando di un movimento che ha avuto breve durata nel padrono artistico europeo diciamo primi novecento nel novecento durò poco però devo dire almeno dice questo sito ebbe parecchia influenza poi sulle successive correnti pittoriche europee dice poi il prof Bertazzini sono i colori che esaltati dalla ricerca e dagli esiti luministici non i luministici luministici albergano dentro l'anima di una sognatrice L50 è una sognatrice vabbè fin qui sta bene insomma perché chi sogna rischia di vedere realizzato il suo sogno così usando una battuta se ho un desiderio e sogno questo desiderio alla fine magari questo sogno sia vero quindi quindi è bello è bello sentire questo qualcuno che è in grado di sognare di immaginare e il sogno sapete è un linguaggio diverso da quello della realtà il linguaggio del sogno è simbolico mi sognava tutto Freud quindi noi sogniamo per simboli ciò che vediamo non è ciò che è ma ciò che rappresenta quindi potremmo stare ore e ore a discutere di questo però non c'è il tempo è semplicemente una una suggestione un assaggio così vogliamo dare riguardo alle opere di l50 dice ancora il prof Bertazzini è una pittura di emozione più che di visione di visione che in fase progettuale e nel momento esecutivo è frutto di fantasie ma anche di sofferta meditazione e qui il pensiero va chiaramente al Vangelo a Maria vi ricordate quando il Vangelo dice Maria osservava tutte queste cose nel suo cuore meditava vedeva osservava sentiva però conservava nel suo cuore e questo fosse il processo essenziale fondamentale di questa artista credente cristiana che possiamo esperire che possiamo trarre dalla fruizione delle sue opere che ripeto andrebbe fatta dal vivo non su carta ma osservando gustando l'opera in un ambiente adatto con installazioni eventualmente eccetera eccetera la pittrice dice ancora il prof Bertazzini pensa e già il fatto di pensare è abbastanza raro consentitemi non sono molte persone che pensano purtroppo ahimè che usano la ragione pensa e vuol far pensare ancora più difficile far pensare qualcuno è un'impresa ardua far usare la ragione che il signore ci ha dato non è scontato non è scontato ci prova però è giusto che qualcuno ci provi qualcuno riesca bene o male a far riflettere fede e ragione fides et il concetto quel pensiero razionale che ci viene davanti a un evento io ho un concetto quindi concepisco ecco concepisco da mia mente qualcosa che vedo vedo un albero è il concetto di albero va bene l'aspetto concettuale si coniuga con un assunto psicologico psicologico psuche psuche è l'anima quindi dal concetto si passa all'anima e l'anima è immortale l'anima è di Dio è creata sì però è immortale quindi stiamo toccando vette di misticismo quasi e dice ancora come tentativo di tradurre in segni in immagini in colori i moti razionali della coscienza e i guizi irraggiati da componenti emotive e affioramenti inconsci quindi pensate cosa vuol dire tradurre in colori un'emozione come si fa a tradurre in colori un'emozione a volte neanche ci sono le parole per dire un'emozione che proviamo no un'emozione ma a volte non troviamo le parole come le esprimo questa emozione bene l'arte ci dà la possibilità la tecnica di esprimere questa emozione con il colore quindi c'è tutto anche qui si apre un mondo nel senso che possiamo parlare di sinestesia cosa è la sinestesia è il modo di esprimere con diverse sfere sensoriali per esempio io uso un'espressione del tipo parole calde le parole non possono essere calde ovviamente il caldo riguarda i corpi i terreni le parole sono le parole però se metti insieme le due cose parole calde no voci azzurre le voci non possono essere azzurre l'azzurro l'azzurro la voce la voce se metti insieme le due cose qualche suggestione poetica ecco questa è poesia poesia qualche suggestione in più ce l'ho ecco e poi il professore dice mi limito a citare Ruol devo far lato di fede perché sinceramente non so chi sia questo signor Ruol comunque dice la pittrice stessa confessa una minata attenzione e nella pratica definisce i contorni delle figure definisce i contorni delle figure marcando il segno indulgendo sempre ad accordi cromatici violenti quindi definisce i contorni marca i segni e indulge in accordi cromatici cioè in pratica mette insieme i colori discordanti marcando dei segni il segno non è l'oggetto è un segno un segno che sta per qualcos'altro è il contorno il contorno ciò che delimita una figura un oggetto non è l'oggetto ma il contorno della figura dell'oggetto e quant'altro quindi sta a noi poi riempire questo contorno per così dire no ma soprattutto concludi il professore Betazzini la pittrice purifica la catarsi no la catarsi il catarro quando noi abbiamo il catarro ci purifichiamo è il momento di catarsi però il catarro da fastidio bene questa è una catarsi una purificazione tramite le sue tele mediante la fede religiosa quindi la fede purifica fede ispirata al sacro e qui tocca aprire una parentesi perché religione non è fede non è sacro religione non è la fede non è il sacro sono cose diverse religione è quel concetto di legame con Dio religio religio legare mi leggo alla divinità la religione è quella che non è la fede uno può essere religioso quindi può essere legato a Dio ma avere poca fede avere forse nessuna fede addirittura per questo Gesù si inquietava con i suoi dice voi siete religiosi rispettate il Signore avete tutte le norme di legame con Lui però non avete fede e si arrabbiava Gesù si è arrabbiato veramente parecchio con i farisei con gli iscrivi che erano quelli che contavano il sacro è ancora diverso il sacro è il luogo che ci fa santi la chiesa è sacra nel luogo intendo dire la chiesa è il luogo la basilica è la cappella è sacra non è santa perché nel luogo sacro noi diventiamo santi ci abbiamo pensato e io ci ho pensato parecchie volte quindi per diventare santi tocca ad accedere a un luogo sacro alla sacralità ecco perché parliamo di santa famiglia non di sacra famiglia perché è santa la famiglia Gesù e Mario Giuseppe sono santi il sacro invece rispetta rispetta a noi noi che siamo terreni dobbiamo entrare nel luogo sacro il monte sacro la montagna sacra il terreno sacro il tempio sacro per diventare santi quindi la fede della doarisco riporta questo questa distinzione tra regione fede sacro santità e poi conclude il professore dicendo è comunque la religiosità della visione del mondo e della vita a fare sacro ogni tema e certo se io osservo tutto in ottica di fede tutto è sacro tutto è di Dio tutto è luogo di Dio sta a noi sta a noi diventare santi tramite questa sacralità e non è scontato ovviamente c'è da fare un percorso di santità Giovanni Battista va in deserto per santificarsi altri santi vivono nelle caverne nelle grotte per santificarsi eccetera eccetera quindi il luogo sacro che fa la santità della persona ecco continuiamo il nostro lungo percorso di avvicinamento alle opere della chiarissima professoressa cavaliere Teodorino Varisco detta anche L50 adesso trattiamo un breve saggio di Monsignor Giovanni Balconi che parla appunto delle opere dell'Avarisco e Monsignor Balconi è il delegato arcivescovile per i centri e le istituzioni culturali della Arcidiocesi di Milano e l'esordio di questo breve saggio è mi sembra che la sua possa essere intitolata la mistica della luce la mistica della luce che cos'è la mistica uno pensa alla mistica dice ma una cosa che strana che non si capisce qualcosa che rimanda al di là insomma realtà superiori che non è sbagliato sapete perché la mistica indica un sentimento di contemplazione venerazione o adorazione del sacro o della divinità con un linguaggio al di là del pensiero logico discorsivo cosa vuol dire che parla di Dio senza usare un linguaggio logico senza usare il soggetto verbo complemento quindi parlare di Dio in questo modo mistico non è facile da capire ovviamente nel cristianesimo abbiamo avuto grandissimi mistici uno per tutti Santa Caterina da Siena per esempio diceva cose incredibili incomprensibili addirittura per noi comuni mortali però ecco il misticismo è quello quindi parlare il divino della dignità del sacro con un linguaggio non razionale non categoriale categorico insomma che va al di là dell'analisi logica razionale quindi questo un po' la mistica ovviamente non è una qualità umana nel senso che nessun essere umano si sveglia un attimo dice oggi sono mistico ovviamente non è ci vuole un intervento soprannaturale ci vuole che il signore qualcuno i suoi angeli eccetera diano questa qualità soprannaturale notate che mistica ha la stessa radice di mistero quando diciamo mistero implichiamo in qualche modo anche la mistica i quali a loro volta si rifanno una radice greca mistes mistes che vuol dire iniziazione vuol dire qualcuno che ha avuto un iniziazione a qualcosa che non è umano ecco questo comunque senza andare troppo in là poi ciascuno può documentarsi come come vuole abbiamo tanti mezzi a disposizione che parlano di mistica di mistero misticismo eccetera è importante anche la seconda parte della definizione mistica della luce quindi abbiamo insieme due termini che sembrano contradditori la mistica che rappresenta qualcosa di oscuro di occulto non comprensibile poi la luce che invece illumina un po' come se dicessimo la tenebra luminosa a quanto a quanto suggestivo questo accostamento di Monsignor Balconi quindi cerca di portare la luce su un mistero su un'oscurità e poi continua Monsignor Balconi è come se lei Teodolinda osservasse il mondo attraverso lo specchio dello specchio e lo specchio dell'immagine riflessa se noi guardiamo lo specchio in uno specchio otteniamo un'immagine giusta corretta che non è però la realtà è lo specchio dello specchio che scompiglia le convinzioni in cui tutti credono senza mai verificarne la validità la pratica parla di luoghi comuni il luogo comune è quello che tutti danno per assodato ma poi nessuna realtà si prende cura di verificarne l'effettiva realtà la verità tutti quanti viviamo di luoghi comuni sono quelli che ci aiutano a volte in situazioni difficili sempre di luogo comune di fronte a un'estate particolarmente calda si dice ah ma non c'è mai stata un'estate così calda nella storia invece magari sì anche forse anche più calda però il luogo comune è quello è dire qualcosa che non si può neanche verificare però tutti quanti ci credono questo luogo comune ecco quindi quindi l'opera dell'Amarisco cerca di scompigliare un po' queste convinzioni questi luoghi comuni in cui tutti credono senza mai metterli in dubbio senza mai verificarne l'effettiva validità ecco questo è un po' anche l'importanza della sua opera poi continua un signore dice di fronte ai suoi quadri che fortunatamente lui ha visto al vivo io no comunque è beato lui ha detto non che bello ma che vero questo riporta nella sua introduzione ha il gusto della verità e ha la ricerca della verità a volte tormentata a volte ridotta a poche essenziali pennellate che ne colgono l'animo nella sua nudità ancora il tema della verità nella verità nuda l'essenzialità pensate ai poeti per esempio quanto lavoro devono fare per ridurre l'essenziale una poesia togliere tutto quello che non serve è un lavoro certosino letteralmente quindi togliere quello che non serve togliere termini inutili ridurre l'essenziale la poesia in modo che quella una sola parola magari sia espressiva dell'universo intero pensiamo ai famosi versi di Ungaretti poesia soldati dice si sta come d'autunno sugli altri le foglie sono due versi scarsi e però aprono un mondo chissà quanto Ungaretti ci ha lavorato sopra per ridurre un concetto così grande e importante a soltanto due versi e così anche il pittore e l'artista figurativo chissà quanto ha lavorato per ridurre un'idea complessa a pochi tratti a pochi colori a poche informazioni da passare al fruttore c'è un lavoro di così di asciugamento potremmo dire asciuga le idee le toglie toglie quello che non serve rimane solo l'essenziale è un lavoro anche questo dicevo certosino che richiede tanto tempo a volte gli artisti fanno diverse copie di un'opera però soltanto una è l'opera sapete fanno vari bozzetti fanno varie versioni però soltanto una è l'opera perché arrivano a quella dopo un lavoro di riduzione di di perfezionamento ecco quello è un po' il senso poi dice ancora di Monsignore la sua è un'arte ascetica e qui apre un altro universo perché sapete l'ascesi è una qualità rara di questi tempi l'ascesi di per sé ascesi dal greco vuol dire esercizio impegno no gli ascetici anche quelli che andavano nel deserto stavano in un luogo tranquillo anche in ospitale anche difficile in cui vivere e stavano lì e meditavano pensavano stavano con se stessi anche Gesù lo fa vi ricordate nel deserto per 40 giorni quindi quelle ascesi è un esercizio di virtù e non è per tutti non è per tutti non tutti possono pensare di fare un percorso così difficile complesso complicato impegnativo però ecco questa è un'arte ascetica dice il Monsignore le cose le persone si stagnano sul silenzio del deserto appunto quindi abbiamo questa rappresentazione su un fondale desertico il nulla il vuoto il silenzio la difficoltà l'aridità il deserto è arido non ci sono piogge non c'è erba non c'è nulla a parte qualche animale poi dice ancora per capirla sono stato costretto a immettermi nella povertà dello spirito beati poveri in spirito ricordate le beatitudini povertà dello spirito spirito povero perché lo spirito povero può ricevere tanto se uno spirito è ricco ha già tutto invece lo spirito povero può ricevere è aperto alle donazioni ai doni a quello che arriva dall'esterno perché dice le sue figure mi interpellavano esigevano una risposta mi perseguivano fino a quando non esprimono la verità che nascondevo nelle pieghe più riposte del mio spirito addirittura qui parla di persecuzione queste immagini che perseguitavano il Monsignore che mi si presentavano davanti varie volte magari in una giornata ripensava quello che ha visto questa è meditazione questa è vera meditazione quando noi percepiamo un'immagine un fatto e poi ci ripensiamo lo meditiamo ancora lo conserviamo nel cuore come Maria ricordate Maria non capiva tutto però conservava molte cose nel suo cuore e così anche l'arte di L50 è un'arte mistica abbiamo detto quindi parla di Dio con linguaggio non razionale non umano lo fa con termini artistici sappiamo che l'artista è questo è quel personaggio che ha un carisma un dono particolare di vedere verità che altrimenti non sarebbero visibili vedere le cose i materiali qualcosa che non vediamo come immortali potremmo dire ecco perché l'artista dovrebbe dovrebbe vivere calato nella società poi ci sono esempi di artisti che invece si distaccano completamente dalla realtà ma quelli insomma è una scelta loro discutibile anche l'artista è colui che vive nel reale e contribuisce al bene comune dice ancora Monsignor Balconi c'è uno spiovere del soprannaturale del divino nell'uomo e questo verbo spiovere mi è piaciuto particolarmente perché richiama la pioggia la pioggia sapete la pioggia è fecondità acqua è fecondità c'è quel famosissimo versetto biblico come la pioggia la neve scendono dal cielo e non vi ritornano finché non hanno fatto fecondare la terra così la mia parola non tornerà a me sta parlando Dio finché non avrà tenuto quanto desidero questo è un po' senso dello spiovere quindi un divino che viene a fecondare a fare nuova la creazione dice Cristo dice faccio nuova tutte le cose è quello esattamente il senso della parola di Dio quindi rifondare rinnovare la creazione e poi dice ancora di un signore e nello stesso tempo avvertivo il sentimento l'angoscia e l'ansia angoscia e ansia dell'individuo che si eleva lì sopra di tutto la ricerca non è una cosa facile non è una passeggiata di salute come dicono a Roma mettersi in ricerca a volte comporta angoscia angoscia ansia smarmento lascio le certezze che ho vado verso altre terre Abramo per esempio lascio le certezze viene chiamato al signore andare altrove era già piuttosto anzianotto pensate quanta angoscia quanta ansia avrà vissuto questo uomo anziano quando il signore disse vai lascia la tua terra dove io dicherò dove signore tu vai e questo è un po' l'angoscia l'ansia di cui si parla quindi la ricerca che si eleva un po' di sopra della normalità e dice ancora a metà tra cielo e terra assistevo all'incontro dell'uomo con Dio questo è San Paolo 100% San Paolo perché San Paolo nelle sue lettere dice l'incontro col signore avverrà a mezz'aria tra terra e cielo incontriamo il signore quando sarà il momento quando ci sarà appunto la parusia il ritorno fra terra e cielo e quindi quindi qui c'è l'anticipo di questa parusia parusia vuol dire rivelazione il ritorno del signore quando lo incontreremo a mezza strada fra terra e cielo dopodiché leggiamo non si dice ritrovo l'armonia e l'unitarietà del tutto e mi scopri a pensare ecco chi sono e qui si aprono appunto ancora universi filosofici e di pensiero occidentale pensate qui siamo ad Aristotele la reduxio ad unum tutto quanto viene ricondotto a una causa prima e le singole parti sono più della loro sommatoria sono qualcos'altro se metti insieme alcune parti alcuni pezzi di materia ottengo qualcosa che non è soltanto l'assommatore dei pezzi di materie ma è qualcosa di più quindi c'è un 1 superiore alla singola materia il concetto è che poi fu ripreso anche da Santa Masuda Aquino ci deve essere qualcosa che muove tutto quanto una intelligenza superiore un'unità sostanziale che fa muovere tutto perché non possiamo pensare che le creature e gli esseri umani si siano fatti da soli ci deve essere la causa prima questo unum questo uno di cui si parla proprio e questo questo dà armonia e unitarietà dice il Monsignore quindi pensare che c'è un uno un'intelligenza superiore e gli dà armonia e unitarietà nel pensiero quindi insomma sono cose da poco poi dice ancora le opere di L50 trasformano i sentimenti in coaguli di colore ancora il sentimento trasposto in materia e un coagulo di colore i colori mi ha già detto questa varietà immensa in quasi inestimabile di colore qui non c'è il viola ma c'è tutta una serie di colori di sfumature di viola che a volte percepiamo a volte no e così le sfumature intermedie dice il rosso porta a pensare al tramonto quindi alla conclusione alla fine della vita e invece poi si trascolora nel giallo intenso dell'aurora quindi un tramonto che diventa aurora un rosso che diventa giallo un nero allusivo del travaglio delle esperienze umane si trasfone nel bianco della resurrezione da sempre Cristo risorto indossa i panni bianchi nella resurrezione quindi il nero della morte che occidente significa morte oscurità tenebra diventa bianco della resurrezione quindi dove c'è la morte dove c'è la tenebra e la fine lì spunta proprio il positivo la resurrezione il bianco nulla finisce tutto ricomincia dalla morte viene la vita dalla vita viene la morte come dicevano anche i medievali quindi ancora un'altra suggestione che ci dà il signor giorni balconi la sua pittura di Totolinda è una specie di duetto nel contempo lettura dell'uomo e meditazione del Vangelo vi ricorda qualcosa questo? beh sì a me sì la natura umana divina di Cristo Cristo è vero Dio e vero uomo quindi c'è una dualità di nature ovviamente con presenti non mescolati distinte secondo i vari concili che hanno definito questo concetto di dualità quindi lettura dell'uomo e meditazione della parola di Dio l'uno è costato all'altro il Vangelo apre all'uomo e l'uomo invita a sfogliare il Vangelo l'uomo in quanto immagine e somiglianza di Dio ovviamente immagine e somiglianza di Dio quindi guardando una creatura penso al creatore diceva anche San Tommaso da Quino San Paolo eccetera eccetera e poi altre espressioni diciamo così mistiche se vogliamo dice il Nonsignore è come se lei Teodolinda camminasse sulla luce camminare sulla luce è possibile camminare sulla luce non suona mai una melodia semplice ha bisogno di accordi cromatici anche questo c'è una metafora musicale quindi insieme campi semantici diversi cioè luoghi di significato diversi la musica l'immagine il colore messi insieme e poi concludi dicendo lei ha avuto il bisogno di raggiungere la luce passando attraverso le figure ha trascolorato le cose in luce le manca l'esperienza più forte e più esaltante la trascolorazione della luce nella luce noi sappiamo che la luce di fatto la luce bianca è composta da tutti i colori infatti si può scomporre nei vari colori quindi ciò vediamo bianco in realtà è la sommatoria di x colori quindi concludendo c'è un inserimento del grande professore di storia dell'arte Gabriele Randel il quale affermava che il signore crea Dio crea l'artista trasforma quindi l'artista ha questa dote di trasformare non creare ma trasformare ricomporre scomporre in modo da arrivare a una verità che non è direttamente percepibile grazie a tutti Grazie a tutti.